Quando hai una classe particolarmente agitata, particolarmente rumolosa, hai mai provato ad evitare di rimproverare alunno per alunno o tutta la classe per favorire invece un approccio un po' diverso, ad esempio stare a braccia concerte e osservare ogni singolo alunno. Vi garantisco che se ben fatta questa tecnica porterà tutta la classe nell'arco di pochissimi minuti al totale silenzio. Con due vantaggi che possiamo notare immediatamente, il primo è quello di non dover creare il trambusto del rimprovero e secondariamente un effetto di autoguarigione, ovvero nel momento in cui tu starai a braccia concerto osservando tutti gli alunni in faccia e aspettando noterai che saranno alcuni degli alunni della tua classe a rimproverare gli altri alunni più rumorosi dicendogli di fare silenzio, di stare zitti o semplicemente di tornare attenti. Oppure, ancora, hai provato a suddividere la tua lezione, quindi piuttosto che avere una lezione del tipo spiego per mezz'ora e interrogo per un'altra mezz'ora, suddividere la spiegazione in più parti. Quindi spiego una parte, poi faccio fare le mappe o un riassunto o faccio domande rispetto alla parte appena spiegata per poi nuovamente tornare a spiegare, per poi di nuovo riprendere con le mappe o con le domande e così via. Con questo percorso intermittente, che cosa succederà? Succederà che alla fine dell'ora avrai probabilmente riscontrato un numero molto più basso di comportamenti problematici legati a meccaniche oppositive o semplicemente a stanchezza da parte degli alunni. Questo perché creando un'intermittenza all'interno della tua spiegazione permette agli alunni di rifocillare le loro capacità attentive. Ecco, queste sono due tecniche, le più semplici che mi venivano in mente estrapolate dal webinar sulle dinamiche oppositivo provocatorie, quindi il webinar sui DOP. Attenzione appunto a questa differenza, DOP è la sigla di disturbo oppositivo provocatorio, ma nel webinar, che è un webinar avanzato, io non ti dirò che cosa è un disturbo oppositivo provocatorio perché è un webinar avanzato, DOP è scontato, che tu già lo sappia, e invece parleremo delle dinamiche oppositive, ovvero quei comportamenti di opposizione da parte dei tuoi alunni, a prescindere dal fatto che abbiano o meno una diagnosi. Io sono Marco Catania, sono psicologo e formatore per tecnica della scuola, quindi ti aspetto al webinar DOP dove parleremo di poca teoria, tanta 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 pratica tecnica da utilizzare e modalità del tipo davanti al problema X puoi fare YZ o K in base ai fattori ambientali per ottenere un risultato concreto, efficace e soprattutto efficiente. Ciao, ci vediamo al webinar.